Grazie Marco Corrado Billesci, fanpage.it Buongiorno Presidente, la notte del 31 dicembre un colpo di pistola colpo di pistola, non sono io che ho sparato, no? Perché ridono tutti? Un colpo di pistola, partito dalla pistola appunto del suo deputato, deputato del suo partito Emanuele Pozzolo, ha ferito una persona che partecipava a una festa di Capodanno. Le chiedo innanzitutto che idea si è fatta di quella vicenda, si è anche chiesto direttamente conto di questa storia a Pozzolo, che provvedimenti, se intende prendere, che provvedimenti intende prendere nei confronti del deputato e legato a questo le chiedo se anche quello che è emerso in questi giorni sul background, sul passato di Pozzolo, le posizioni Novax, i post, apertamente in sostegno a Benito Mussolini, definito uno statista, non pongano un tema più generale sulla selezione della classe dirigente del suo partito. Grazie. Grazie a lei. Dunque, intanto sulla questione specifica, facciamo ordine. Allora, parlamentare Pozzolo dispone di un porto d'armi per difesa personale. Lo dico rispetto alle polemiche che ho sentito. Non so perché abbia un porto d'armi per difesa personale, ma questo non va chiesto a me, chiaramente, perché va chiesto all'autorità competente che ha rilasciato il porto d'armi. Parlamentare Pozzolo girava con un'arma a Capodanno. Presumo che chi ha un porto d'armi per difesa personale capiti di portare un'arma, altrimenti non so quale sia la difesa personale, quindi la questione non è neanche questa. La questione, secondo me, è un'altra. Ed è che chiunque detenga un'arma ha il dovere legale e morale di custodire quell'arma ma con responsabilità e con serietà. E io la penso esattamente così. E per questo, secondo me, diciamo, c'è un problema con quello che è accaduto. C'è un problema con quello che è accaduto perché quello che è successo racconta in ogni caso... Io non conosco la dinamica della vicenda, perché ho sentito un po' di tutto, poi vedremo qual è la reale dinamica della vicenda, ma in ogni caso qualcuno non è stato responsabile. E chi non è stato responsabile è chi ha quel porto d'armi e chi detiene quell'arma. E questo, per me, non va bene per un italiano qualsiasi, figuriamoci per un parlamentare e figuriamoci per un parlamentare dei Fratelli d'Italia. E questa è la ragione per la quale io ho chiesto che l'On. Pozzolo venga deferito alla Commissione Garanzia e Providi di Fratelli d'Italia indipendentemente dal lavoro che poi faranno le autorità competenti sulla questione insieme, diciamo, sul piano politico, io ho chiesto che venga deferito in Commissione Garanzia e Providi di Fratelli d'Italia e che nelle more del giudizio della Garanzia e Providi venga sospeso da Fratelli d'Italia, che è quello che posso fare sul piano statutario. Insomma, ecco. Sul tema della classe dirigente, io questa cosa l'ho sentita molto spesso, per carità c'è sempre qualcuno che ti aspettavi no potesse essere qualcuno che fa degli orrori qualcuno che fa delle cose sbagliate continua a non seguirvi diciamo su questo tema della classe dirigente di fratelli d'italia però sicuramente io non sono disposto a fare questa vita con la responsabilità che ho sulle spalle se le persone che sono intorno a me non capiscono quella responsabilità questo è un elemento non accade spesso per la verità devo dire anche questo però credo che per la responsabilità che noi abbiamo per come io sto cercando di affrontare quella responsabilità per come le persone che vi capita di frequentare di più insomma vedo che stanno affrontando quella responsabilità penso che sia bene ricordare a tutti che abbiamo quella responsabilità e che non c'è uno che si assume tutta la responsabilità e gli altri e qualcun altro che invece pensa di non doverlo fare no per cui su questo io intendo essere come le vede rigida grazie a tutti grazie a tutti